E' da un po' che non faccio video del genere, quindi... iniziamo! Au popolo di youtube, io sono Indy e sono qui per darvi alcune notizie riguardanti il mio canale e ciò che lo circonda Eeeh... ho varie notizie però, sono sia buone che cattive Prima di tutto voglio scusarmi, in questi ultimi anni nel mio canale ho sempre promesso qualcosa Ma non sono riuscito mai a mantenerlo, o almeno la metà delle cose promesse non sono mai riuscito a mantenerle Il problema sta nel tempo, nei problemi personali e in molti altri casini Capitemi, sono dieci anni che faccio youtube e le idee ci sono, ma manca sempre quel qualcosa in completo in certe idee Alcune volte sono le persone, altre volte sono i soldi, e infine c'è il tempo Ho 28 anni, se voglio tenere in piedi questo canale devo fare anche sacrifici sia personali Ma anche di idee e promesse che faccio per tenere la mia sanità mentale ancora in piedi Ma questo video non è solo pieno di scuse, o di io che mi piango addosso per ciò che ho fatto e non ho fatto In realtà sono qui per dirvi quattro cose Iniziamo con la prima Ed è che mi trasferisco su Twitch Ebbene, decisione presa Ho chiesto più volte se è meglio youtube o twitch Ho cambiato più volte per vedere cosa ne pensavate E ho notato che Twitch è un po' più permissivo per le live Per i contenuti, eccetera A differenza di youtube dove devo stare attento che musica mettere Che giochi portare O che parola usare Forse anche Twitch avrà le sue regole, ok? Ma speriamo non troppo ristrittive Don't worry non vuol dire che tolgo video Vuol solo dire che youtube carico video quando... Beh, quando ho video da caricare Nessuno ha tante discadenza o limiti di tempo Mentre per Twitch, beh, lì avrò una scaletta Che voglio seguire per filo e per segno Quindi toccate qui Oppure nella descrizione dei vari video Per entrare nel mio canale Di Twitch Seconda notizia Signori e signore Ho dei social Yeee Beh, allora Telegram lo conoscevate Quindi non è una sorpresa Per chi non è nel gruppo Potete tranquillamente trovarlo qua in descrizione Ho un canale Instagram Dove pubblico qualche foto della mia vita quotidiana Vestito da Echil E finalmente Ho un canale Discord Sorpresa! Ho impiegato un bordello per farne uno Lo so Lo so Ci ho impiegato un bel po' per farne Un altro L'ottima volta Sono successi casini Per via di hater E troll che sono entrati a distruggere tutto Ma ora ho qualcuno che sa il fatto suo E sa come costruire un cancello elettrico Contro certe persone Quindi chi vuole entrare Entri pure Così Magari facciamo qualche chiacchierata insieme E forse qualche live Terza cosa Dal 26 di questo mese Fino al 4 novembre Beh Sarò via Perché sarò a Lucca Comics and Games Sarò in Cineful Suite E sarò lì per tutti e cinque giorni Quindi se vorrete incontrarmi Potete Beh Scoprire dove mi trovo Guardando foto o video Che invierò tramite la mia pagina Instagram Vedo l'ora perché Diciamo che Lucca Sarà uno dei miei più grandi eventi A cui vado E spero di incontrare gente Ok Dovrei aver detto tutto No Cosa manca Oh sì Ecco Quarta cosa E la quarta cosa è una promessa Lo so Lo so Lo so Le promesse Ti ho detto fuori che non le facevo Perché non le so mantenere Ma Diciamo che questa Questa si sto letteralmente lavorando Da un bel po' E adesso è a metà dei lavori Quindi Penso che posso creare un minimo di hype Per questo no? In pratica sto creando un canale Inerente a D&D O Dungeon & Dragon Ma Non solo Dungeon & Dragon Ma anche altri giochi roleplay Sibili Sarà un canale dove Caricherò qualche volta Dei video Oppure farò delle live Insieme ad altre persone Non è una cosa troppo seria Quindi non aspettatevi I video giornalieri O settimanali Però Se siete interessati Il canale è già stato creato Quindi Qua sotto in descrizione Potete già entrare Iscrivetevi E aspettate che carichi Quello che video lì Ok Credo di aver finito con le notizie Twitch l'ho detto Discord l'ho detto Luca no problem Furnace Italia Check Non credo manchi nulla Oh Già Dimenticavo Molti mi chiedevano Perché non faccio più collaborazioni con Gabby La risposta è molto semplice per quello Chiedete a lui Vedo che molti ve lo chiedono Quindi La risposta è semplice Chiedete a lui Io intanto mi sto già mettendo d'accordo con altri Per fare qualche collaborazione Gente famosa o non Quindi potrei tornare con vecchie conoscenze O nuove conoscenze Perfect Finito con questo piccolo video per voi Se avete domande Scrivete pure qui sotto E vedrò di rispondere il più possibile Vi ringrazio per la fiducia che mi date Per l'amore che mi portate Guardando Ogni mio singolo video Lasciando dei like O commentando sotto di essi E' meraviglioso Vedervi Attivi Spero Di vedervi anche Negli altri canali Che creerò Quindi Da India è tutto Ci vediamo alla prossima Se questo video vi è piaciuto Lasciate una bella zappata Sopra il mi piace E noi Vediamo di ritrovarci Al prossimo e fantastico video Au Ciao